Arriva da lontano, arriva dall'Islanda Brian Bjarnerson, classe 1999, il nuovo difensore del Lecce. Lo presenta Pantello Corvino, direttore d'area tecnica. Lecce è la scelta perfetta per crescere. Lecce è meravigliosa. Ho il piacere di presentare Richard Bjarnson. Può sembrare una novità portare a Lecce, farlo venire da così lontano dall'Islanda. Credo che sia il primo giocatore islandese a Lecce. Però, credetemi, non è una scelta dettata dal voler tutti i costi sballordire. Ma è una scelta che tiene conto delle sue potenzialità che vengono da parte di un responsabile prese come decisioni perché coerenti e figlie del pensiero di quei calciatori che stiamo cercando. Cercavamo nel reparto difensivo esperienza a gioventù, sempre in sintonia con quanto stiamo predicando. Questa è una scelta veramente figlia di valori tecnici, ma che è figlia anche di quello che noi cercavamo nel reparto difensivo. Venire in Italia per me è stata un'ottima opportunità. Soprattutto conosciamo tutte le caratteristiche italiane per l'aspetto della fase difensiva. Quindi mi aiuterà molto a crescere. E penso che non ci sia posto migliore per me per diventare un ottimo difensore. Per quanto riguarda le mie caratteristiche sono molto forte nei due L aerei e anche se sono molto alto invece mi reputo molto veloce e do anche un'ottima visione di gioco per quanto riguarda i passaggi e il gioco di squadra.